Certamente questo ha creato molta preoccupazione in città, la stessa preoccupazione che ha indotto me ad adottare un provvedimento cautelare di chiusura delle scuole questa mattina alle 7, richiamando in servizio anche i dipendenti. Siamo riusciti quindi a evitare che le scuole fossero aperte, in attesa poi di valutare più tardi a Teramo, in sinergia con la Asle e con la Regione, la portata di questo accadimento. Si tratta di una famiglia che dall'Abrianza era rientrata a Roseto lo scorso venerdì, si è trattenuta quindi tutto questo fine settimana qui a Roseto, il capofamiglia si è ammalato ed è ricoverato a Teramo, nel mentre le due bambine e la moglie sono in buone condizioni ma sono rigidamente quarantenate nella loro casa di Roseto e monitorate dalla Asle. State anche studiando, cercando di capire quali sono stati i movimenti di queste persone in questi giorni in cui sono restate qui a Roseto? Assolutamente sì, questa mattina il capo della protezione civile mi ha telefonato dall'Aquila, ha già un sufficiente quadro dei movimenti che la famiglia ha fatto in questi giorni, continuano gli approfondimenti e chiunque sarà stato a stretto contatto con loro, sottolineo l'aggettivo stretto, a stretto contatto verrà poi monitorato. Quindi è in corso la ricostruzione di tutti i movimenti che questa famiglia ha fatto su Roseto. Sindaco, per chiudere, le scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di domani? Non posso dirlo, vedrò oggi al tavolo regionale di coordinamento di Teramo quali misure verranno consigliate dai sanitari in particolare. Perché ripeto, si è deciso che non si procede in via estemporanea ma si procede in sinergia, in coordinamento rispettando certi protocolli. Se io ho proceduto in via di urgenza questa mattina è perché il decreto del 23 febbraio lo consente, ma in via del tutto temporanea lo consente al Sindaco, in attesa che provveda poi l'autorità regionale.